Grazie consigliere Comazzi. D'Alfonso per la lista Noi Milano, prego. Presidente, sono stato a lungo dubbio se intervenire o meno nel dibattito perché ho l'impressione sempre che quando i dibattiti si allungano poi si finisce per cominciare a toccare degli argomenti che portano lontano e magari ci porterebbero a perdere quella che io invece considero una grande occasione che oggi abbiamo. La grande occasione che ha questo Consiglio Comunale di dare una risposta collettiva, una risposta corale, una risposta civica e non scadere come non è scaduto grazie soprattutto al comportamento dell'opposizione, di tutta l'opposizione che non ha seguito fino a questo momento ma confido sul fatto che non lo faccia neanche in seguito l'esempio del, lo dico, l'avevo già detto l'altra volta, politicamente parlando della buonanima di decorato che utilizzava, sto parlando di, politicamente parlando della buonanima di decorato, posso andare avanti? Grazie. Che è sempre fisso allo schema dei due comunicati con la conclusione unica. I due comunicati che sono se si dimette allora perché si è dimesso o se non si è dimesso perché non si è dimesso e comunque la conclusione è sempre la gente non ne può più dimissioni. E c'è una certa, capisco che questa e che ogni tanto ci sia qualcuno che vuole tornare indietro anche a quegli argomenti ma oggi non è di questo che stiamo parlando. Io sono d'accordo con alcune valutazioni fatte da alcuni colleghi sul garantismo, sul fatto che il garantismo non è sempre stato, diciamo così, il sentimento prevalente in diverse parti politiche. Però oggi il tema non è il garantismo perché non stiamo parlando di una vicenda personale o di una vicenda giudiziaria. Io credo che il sindaco con il suo gesto che è il rituale, come ha detto, nel senso che è un gesto politico, non è affatto un gesto giuridico. Sappiamo tutti che non esiste l'autosospensione dal punto di vista legale. Il gesto che ha fatto è un gesto politico. Si astiene, una volta si sarebbe detto vado in congedo, se preferite, è andato in congedo per alcune ore. E lo ha fatto perché? Lo ha fatto per tutelare l'immagine e la reputazione della città, un patrimonio immateriale che noi abbiamo qua. Io credo che anche il fatto che tutte le opposizioni si siano, da questo punto di vista, trovate d'accordo con questo tipo di posizione del sindaco, significhi proprio questo. Che vogliamo evitare che ci sia un danno alla città. In questo momento Milano è l'unica istituzione, sto parlando in senso lato, che ha una reputazione internazionale molto elevata. E quindi le notizie, come potevano venire, come tutti voi, nella prima ora della cosiddetta crisi di giovedì scorso, nella prima ora la notizia era sala indagato, non indagato per una bagatella. Sala indagato ed è la notizia che è il sindaco di Milano indagato che ha corso per tutto il globo terraqueo. E questo è un danno per la città. E quindi su questo, anche su questa qui si è parlato, io non voglio toccare gli elementi che si dicevano se c'è stata una moratoria o non c'è stata una moratoria. Conoscendo un po' più che vagamente la procura di Milano, mi sembra francamente difficile che ci siano state sospensioni di legge nel loro operato. Però questo non hanno certo bisogno di me come avvocato. Ma guardate che la cortesia istituzionale non è una sciocchezza. città. Adesso ci siamo abituati a fare una volta quando veniva un nome di un indagato, di un colpevole eccellente, si mettevano le carte sotto perché non si aveva paura. Adesso come si vede un nome ci si precipita in televisione per farlo. Sono due patologie. La situazione non è quella. Esiste un valore nel tutelare l'immagine della città. Il fatto che il sindaco di Milano e il signor Giuseppe Sala non sono la stessa cosa. Se il signor Giuseppe Sala è sindaco di Milano, il fatto che qualcuno gli usi una cortesia, che è quello per esempio di avvisarlo prima, oppure di dirlo prima a lui e poi al resto dell'opinione pubblica, non è solo un aspetto procedurale. È un aspetto sostanziale e di tutela della città e noi sappiamo quanto abbiamo bisogno di reputazione nel mondo in questo momento. E voglio aggiungere una cosa. Parlando oggi sui giornali, oltre alle notizie ovviamente relative al nostro Consiglio Comunale, c'è in un'altra pagina. Si parla di un'altra istituzione sulla quale, dovendo parlare, è un'istituzione che è sempre stata, diciamo così, negli ultimi vent'anni vagamente gestita dal centrodestra o da alcune parti del centrodestra e tuttora non mi sembra che ci sia molta parte. E sto parlando della fiera SPA. Stamattina è uscita una notizia che io considero gravissima. Cioè che ci sia stata un'altra richiesta di sei mesi di prolungamento delle indagini relative alla fiera e questo immagino che sia una necessità di indagini. Ma è stato richiesto il commissariamento per infiltrazione mafiosa della fiera SPA. Allora, o ci sono degli elementi per cui questo... Ah, nello stesso atto si è detto che i vertici che vengono commissariati sicuramente non hanno niente a che fare con la mafia. Allora, un atto del genere, al di là di tutto, parlare della fiera SPA come un ente a sospetto di infiltrazione mafiosa fino ai vertici. Beh, è un atto estremamente importante ed estremamente rilevante. Io credo che anche in questo caso ci sarebbe voluta e ci voglia un certo garbo, sicurezza e tutto quanto. Per quanto riguarda poi il fatto in sé di cui non dobbiamo e non vogliamo parlare, però lo ha fatto il consigliere Rizzo, lo hanno fatto anche altri con una richiesta, insomma, fa sempre una certa impressione, no? Dire lo dici o no, lo dici o no, lo dici o no. Allora, anche in questo caso, non vorrei fare lezioni, però è dai tempi di Cicerone che si parla di sumum ius sumia inura. Non sta scritto da nessuna parte che l'applicazione formale delle leggi, cioè che tutti i reati siano uguali, che tutti i comportamenti siano uguali. È davanti alla legge e non davanti alla legge. Io credo che aver portato allo stesso livello di altri, anche solo mediaticamente, una questione che è palesemente, palesemente ininfluente ai fini del risultato finale e anche al fatto che siano risultati dei comportamenti che hanno danneggiato in qualche modo la parte pubblica. Una questione che è stata esaminata da almeno del 2012, fatta con un rapporto della Guardia di Finanza del 2013, che sta nelle carte del Tribunale dal 2013 al 2015, sulla base della quale almeno quattro magistrati, non esattamente gli ultimi arrivati, hanno chiesto una richiesta di archiviazione. Io penso che questa cosa, rendere questo aspetto un aspetto così drammatico da richiedere, quello che abbiamo visto, sia, possiamo dirlo, un errore. Il fatto è un errore. Ho capito perfettamente. Consigliere Rizzo, l'invito a far concludere l'intervento con il senso D'Alfonso. Non mi interessa un fico secco? Non mi interessa un fico secco, anche perché aggiungo che la reazione che c'è stata, quella dei sindaci, andiamo dietro alla reazione dei sindaci. La reazione dei sindaci non è la solidarietà nei confronti di Sala o altro, è una solidarietà da parte di una categoria che negli ultimi anni è stata, che dico, quella degli amministratori, che ormai è vessata da una serie di... no, non è affatto una casta. Tant'è vero che vedrai... esatto... qui c'è la vera differenza, se volete, di concezione. Qui c'è la vera differenza e qui c'è la vera concezione del diritto formale e del fatto che, secondo qualcuno, la politica si continua nelle aule dei tribunali o si fa sul moralismo e non si fa sulla presa di responsabilità. Io credo che i sindaci e gli amministratori abbiano inteso con quel documento esprimere un disagio che sento, posso dire, avendo avuto un'esperienza di amministrazione prima e avendola dopo e avendola anche adesso in città metropolitana, sento profondamente che le leggi di questo Stato e le procedure di questo Stato sono fatte e sono, soprattutto negli ultimi anni, sono state spinte in maniera tale da rendere impossibile l'arte di amministrare. Impossibile l'arte di amministrare. E quindi questo è un grido di dolore che dice cerchiamo di cambiarle queste procedure, perché se c'è una... Consiglio D'Alfonso, la invita a viarsi alla conclusione, grazie. Posso chiedere in prestito al PD qualche minuto, così siamo a posto. Il PD approa, due minuti, non molto di più perché sto concludendo. Stavo dicendo, scusate mi hanno interrotto, ma vado rapidamente alla conclusione. Io credo per l'appunto che su questa strada il merito che ha avuto, il merito che ha avuto Sala, Sala, la vicenda di Sala e quello che ha innescato è portare l'attenzione su questo. E quindi invito tutti i colleghi a mantenersi per questa volta su questo binario, perché è di questo che stiamo discutendo. La vicenda personale di Sala e delle altre persone le potremo vedere in altre occasioni, anche perché se no riprendiamo a fare il solito tiro degli stracci che non serve a nessuno. Ma io credo che anche in questa occasione Milano possa servire come un esempio di dibattito civile, perché possiamo concludere essendo d'accordo su questa posizione, riprendere subito dopo su un'altra delibera a dividerci tranquillamente, ma soprattutto civilmente. Grazie. Grazie consigliere D'Alfonso. La parola alla consigliere Molteni. Prego.